Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale Canon EOS R7 Watch Before You Buy. Ma come direte voi? Ci hai già fatto dei video parlando di questa camera e ce ne hai parlato bene e adesso ci fai un video parlandocene male? No, non è esattamente così. Io non voglio fare un video per parlare male di questa fotocamera perché personalmente la sto usando, mi sto trovando molto bene, mi sta piacendo praticamente tutto perché ho letto a fondo le specs prima di comprarla e quindi sapevo esattamente che cosa stavo comprando e a me andava benissimo così. Faccio questo video per chi, pur magari essendosi guardato le specs, non l'ha mai tenuta in mano, quindi vi vado a dire semplicemente quali sono non gli aspetti che secondo me potevano essere migliorati perché non è tanto quello, vi vado a raccontare quelle che sono alcune piccole lacune di questa fotocamera, alcune piccole pecche che potrebbero farvi propendere per un acquisto differente. Partiamo dal sensore. Allora, stiamo parlando di un sensore da 30 megapixel. Ovviamente per una PSC 30 megapixel sono un po' tanti, l'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato. A me i megapixel servono perché comunque faccio delle cose dove spesso e volentieri mi servono i megapixel, quindi io non demonizzo i megapixel, però al tempo stesso sono consapevole di quello che succede quando andiamo a incrementare, a dismisurare i megapixel su un sensore. Quindi andiamo a perdere qualcosina sul lato della gamma dinamica magari, che è una cosa che a me secca tantissimo. Questa fotocamera ha una buona gamma dinamica. Ho visto dei test che la paragonavano alla R5C come gamma dinamica addirittura, quindi per carità non è uguale, però è una camera che se la cava anche in termini di gamma dinamica. Questo comunque perché nel frattempo la tecnologia ha fatto dei passi avanti e quindi comunque è una camera che se la cava. Rimane il fatto che 30 megapixel sono un po' tanti. Si sarebbe magari potuto mettergliene 24, forse si sarebbe stati un pochettino più indietro sui megapixel, magari avremmo avuto dei miglioramenti su altri fronti. Un'altra cosa che a me dà un fastidio, sapevo che era così, quindi si accettano le regole del gioco, ovviamente è il fattore di crop. Allora ne ho già parlato, qualcuno mi ha anche fatto notare che non è vero, non esiste un fattore di crop sul 4K su questa camera. Ok, è vero, non c'è fattore di crop e quindi qui abbiamo un 4K non croppato. Possiamo cropparlo, perché c'è l'opzione di cropparlo apposta e se lo croppiamo apposta ovviamente abbiamo un vantaggio in termini di estensione, perché se stiamo usando una certa focale e facciamo un crop sul 4K allunghiamo la focale, quindi può essere un vantaggio. Personalmente ho montato su un 24-105, quindi diventa già molto lunga come lente, io la uso sempre tra 24 e 35 praticamente, quindi non la uso mai più lunga, quindi non vedo la necessità di andare a utilizzare questo crop, a meno che non stiate riprendendo degli uccelli o dello sport, cosa che potrebbe essere perché questa camera ammicca proprio a quel settore. Detto questo però, è vero che non c'è necessariamente il crop sul 4K, però partiamo da un crop di 1.6, perché comunque è un sensore APS-C. Questo significa che se vogliamo fare delle riprese grandangolari, facciamo fatica, perché per esempio io col 24-105 parto che ho un 38, è un 38 di fatto questo, quindi io non riesco a fare delle riprese grandangolari con questa lente, devo procurarmi delle altre lenti, dovrò procurarmi probabilmente il 16mm RF e così riuscirò ad avere un, adesso non mi ricordo più come sono i calcoli, cosa mi diventa? Un 27, riuscirò ad avere un 27 che quindi è un grandangolo, non è neanche un 24, capito? Cioè a me piacerebbe avere un 24, un 16 proprio, perché lo uso il 16, il 24 lo uso tanto, il 16 lo uso ancora di più. Mi piacerebbe avere quelle lunghezze focali su questa camera, so che non posso, me lo faccio andare bene così, tanto questa videocamera viene usata prevalentemente per fare riprese come quella che state vedendo adesso, quindi riprese magari corporate, video aziendali, quindi riesco a farne a meno, la ripresa ampia o la faccio con un'altra camera, la faccio in un altro modo, so che non posso farla con questa camera, quindi questa è una pecca, indiscutibilmente una pecca. Ovviamente conosciamo le regole del gioco, sappiamo che è un sensore APS-C, quindi è più che altro il prezzo e la dimensione che ci spinge su una fotocamera di questa fascia secondo me, quindi sappiamo che le regole del gioco sono queste, le accettiamo e va bene così, oppure compriamo un'altra cosa, perché non è l'unica fotocamera videocamera sul mercato, quindi possiamo comprarne tante altre, se ci dà così fastidio questo fattore di crop, possiamo andare su R6 o R5, che non hanno il fattore di crop, sono delle camere assolutamente bestiali, hanno delle specs pazzesche, però hanno anche un prezzo bestiale, soprattutto la R5, quindi dobbiamo valutare tutta una serie di fattori, per quello che serviva a me, la R7 è perfetta, quindi andava bene così, l'unico rimpianto è un po' questo del fattore di crop. Vengo all'ultima pecca che vi segnalo, che mi è stata in realtà segnalata, perché non è una cosa che a me capita, io non faccio birdwatching, non faccio wildlife, più che altro perché abbiate pazienza, abito a Milano, io per fotografare un pettirosso devo prendere la macchina e farmi chilometri, perché qui posso fotografare i piccioni qua, le rondini magari, ma non è cosa per me, poi non sono tanto appassionato di fotonatura, quindi sono più sul paesaggio magari, diciamo che non è una cosa che ho sperimentato, però mi è stato segnalato da chi invece lo fa, quello che mi è stato segnalato è che fondamentalmente le funzioni di shutter silenzioso non sono poi così silenziose, adesso io non ho verificato ovviamente, non sono stato neanche troppo a chiedere, ho dato per scontato che lo shutter silenzioso fosse stato impostato correttamente, però ho avuto almeno due segnalazioni di persone che mi hanno detto guarda però che tu parli tanto bene di questa camera, però è pensata per wildlife, ma se tu la usi nella natura, nel silenzio, lo shutter si sente, e uno shutter che si sente può influenzare il comportamento degli animali, questa è una pecca che mi fa veramente dire peccato, perché è una fotocamera che è photography first, quindi non è pensata per il video, sono io che la uso per il video, ma in realtà è pensata per la fotografia, infatti ha tanti megapixel, è proprio pensata per andare a scattare natura, quindi per andare magari ad avere anche un crop importante, perché insomma quando si fotografano gli animali non si riesce sempre a comporre bene, quindi è pensata proprio per quello, peccato di questa cosa, perché con uno shutter che si sente che gli animali riescono a percepire rischia di essere un problema questo, non so se possono essere rilasciati dei firmware successivi con cui il problema può andare a essere risolto, io francamente non riesco a percepire tutto questo rumore quando è in modalità silenziosa, però mi rendo conto che gli animali hanno un dito più affinato del nostro, quindi queste secondo me sono le tre pecche che possono farci riflettere nel momento in cui stiamo andando a fare un acquisto di questo tipo. Per il resto io vi devo dire che sono molto contento, ma anche del grip, il grip è bello, cioè sapete che io mi lamento sempre del grip, mi lamento sempre del mignolo che non va bene, che è troppo piccolo eccetera, questa devo dire che non riesco proprio a lamentarmi, perché sta in mano correttamente, quindi è proprio una bella camera secondo me, al di là del fatto che a me personalmente piaccia il design, mi trovo abbastanza bene su tutti i fronti, quindi veramente una bella camera a parer mio, diciamo che ci sono queste tre pecche che vi segnalo, perché nel momento in cui voi fate proprio una di queste tre cose, cioè se mi dite che fate solo riprese ultra grandangolari, questa non è la camera per voi, mi dispiace non lo è, oppure se fate solo fotografie ai cervi in montagna, e questa potrebbe non essere la camera ideale per voi, perché appunto mi hanno segnalato che lo shutter potrebbe non essere abbastanza silenzioso, ovviamente secondo me ce la si cava ampiamente, soprattutto se si ha un teleobiettivo adeguato, se si sta a una certa distanza, uno shutter non penso possa dare chissà quale fastidio agli animali, però invece se stiamo cercando di avvicinarci, mi viene in mente che ne so, magari siamo in Africa, ci stiamo avvicinando di soppiato degli elefanti per fargli una foto, e mi rendo conto che se gli elefanti si girano perché sentono lo shutter lì, può essere spiacevole. Provate anche voi, e anzi fatemi sapere in un commento se qualcuno di voi ha esperienza su questo fronte, perché io non fotografando animali posso fare tutti i test che voglio sul mio gatto, ma il mio gatto ormai non si gira neanche se rovescio tutto uno scaffale, quindi non è un test molto affidabile. Fatemi sapere se qualcuno ha avuto modo di testarla nella natura, se ha avuto lo stesso problema, oppure viceversa se smentite le voci che mi sono arrivate, invece se mi dite no, no, funziona benissimo. Fatemi sapere perché sono curioso, anche se è una cosa che non uso, sono comunque curioso di saperla, e a questo punto se mi date dei feedback farò un video di scuse nei confronti di Canon se funziona, e invece farò un video di tirata di orecchie se non funziona. Ad ogni modo vi ricordo che ho già pubblicato diversi video su questa fotocamera, tra cui c'è un unboxing, le impostazioni video che utilizzo prevalentemente, ho anche fatto un video sulle features del corpo macchina, quindi i bottoni e come sono stati posizionati, vi lascio tutto quanto in card, andateveli a vedere. A questo punto io vi chiedo anche un like a questo video, un commento così incoraggiamo l'algoritmo. Se volete seguire il canale mi aiutate tantissimo, perché a me serve veramente tantissimo crescere in questo momento, per espandere il canale e portarvi dei contenuti che secondo me hanno un loro valore, perché comunque vedo che la community sta crescendo, per cui entra a farne parte adesso, il bottone è proprio qui sotto, e amici che dire, io vi ho detto proprio tutto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.